Il Vice Sindaco Nieri, l'importanza di questa manifestazione? È una bellissima manifestazione, serviva, è bello che si è messa insieme così in modo indipendente, autonomo, attraverso Facebook che segnala che c'è una grande richiesta che il Sindaco Marino e questa giunta continui a fare il lavoro che ha fatto fino ad oggi. Ma per tutto quello che è successo, quindi mondo di mezzo, anche detta mafia capitale, il Sindaco Marino è previsto che lui venga a relazionare un po' in consiglio? Sì, il punto è che l'ha già annunciato e lo faremo tranquillamente, anche perché mi pare evidente che questo Sindaco e questa giunta sono state l'argine al malaffare. C'è appoggio completo del PD Romano di Orfini? Sì, non ho dubbi proprio. Grazie.